L'obiettivo di questa presentazione è farvi un quadro di massima di quali sono i meccanismi in essere operativi per servizi di cartografia di emergenza basati su immagini satellitari e dare qualche linea di guida di quelle che sono secondo noi i più importanti settori in cui la ricerca potrebbe darci un grosso contributo. Come anticipato dal Cermen della Sessione faccio parte di questa associazione che è un'associazione con sede a Torino in cui uno dei soci fondatori è il Politecnico quindi team, una sorta anche se non proprio veramente di spin off del Politecnico, una sorta di spin off nel senso che lo staff è praticamente interamente composto da ex studenti del Politecnico con un elevato grado di specializzazione nel settore soprattutto della geomatica, quindi parliamo principalmente di Remote Sensing e GIS declinato a supporto di quelli che sono i servizi di analisi per la gestione delle emergenze soprattutto per le fasi di preparedness e response. Come dicevo un team di dimensione media caratterizzato da un alto livello di professionalità considerando che metà del team è composto da ricercatori e di questa metà un'ulteriore metà quindi un quarto sono tutti con dottorato più una forza lavoro diciamo che deve di fatto garantire quello che è il nostro servizio principale, quindi un servizio di cartografia di emergenza con i requisiti di reperibilità e quindi disponibilità tipici di un prodotto a supporto della protezione civile e quindi con una situazione che è in disponibilità 24-7, 365 giorni all'anno. ITAC si occupa di una vasta gamma di progetti e appunto tutte quelle che sono attività a supporto di questo tipo di servizi quindi costruire, disegnare, implementare infrastrutture e dati piuttosto che applicazioni per la distribuzione dei dati su web ma anche strumenti che appunto non siano esclusivamente la risposta all'emergenza ma anche una sorta di previsione quindi servizi di preallerta per alluvioni e siccità piuttosto che analisi di vulnerabilità legate all'alluvioni e compresa anche sistemi ottimizzati per l'acquisizione di dati, per esempio utilizzando UAV. In questo momento però ci concentriamo sulla parte dedicata al cosiddetto rapid mapping. In quale contesto ci muoviamo? Ci muoviamo nel contesto del servizio Copernicus Emergency Mapping Service per la componente rapid mapping. Cosa è questo servizio? È un servizio attivo dal 2012 e che su attivazione di utenti autorizzati che sono essenzialmente le protezioni civili nazionali ha il compito di produrre cartografia in tempi molto rapidi identificando le aree affette e le conseguenze sulle infrastrutture. Il tutto, essendo nel quadro di Copernicus, quindi dell'iniziativa europea che promuove l'utilizzo dei dati satellitari, è evidentemente principalmente basato sull'analisi satellitare. Un flusso di lavoro molto semplificato di questo servizio prevede l'estrazione di tutti i dati cartografici presenti in un'area di riferimento tenendo conto che, benché sia un servizio gestito dalla Commissione europea è un servizio a copertura mondiale, quindi potremmo essere attivati in qualsiasi parte del mondo. è evidente che noi abbiamo bisogno di accedere all'informazione di riferimento contenuta in quell'area perché ci serve per contestualizzare l'evento e per andare a valutare poi i danni sulle infrastrutture effettivamente presenti in quell'area. Chiaramente in prima battuta ci si rifà a dati provenienti da fonti ufficiali ma questo evidentemente non è sempre possibile, quindi ci sono dei meccanismi che anche oggettivamente l'accesso e l'utilizzo di fonti open è una prassi consolidata. Sulla base di questa situazione di riferimento vengono acquisite specificatamente dal servizio immagini satellitari e sulla base del confronto tra situazione pre e post evento vengono valutate l'estensione dell'evento e il grado di danno alle infrastrutture presenti sul territorio. Un esempio, questo è un tipico prodotto cartografico che viene rilasciato nell'area, questi sono i danni legati al passaggio dell'uragano Aila sulla città di Beira e Mozambico, all'onore della cronaca, se guardiamo una screenshot delle conseguenze e vediamo che sono stati identificati solo in quest'area che è una delle N area of interest, credo più di 12 su cui si è stata fatta l'analisi, ci sono più di 3.000 edifici danneggiati, ma più di 3.000 edifici danneggiati vuol dire, nel caso specifico, aver valutato una situazione di questo tipo in cui ce ne sono decine di migliaia di edifici e in questo momento cosa succede? La tecnologia non consente di avere strumenti automatici o semi-automatici per l'identificazione del danno di questo tipo di infrastrutture, soprattutto in una dinamica così complessa di aggregato urbano e quindi vuol dire che l'operatività richiede che degli operatori si passino uno a uno questi decine di migliaia di edifici confrontandoli con una situazione pre e identificando delle situazioni di danno che si vedono poco in questa figura, ma sono essenzialmente nell'angolo nord-est dell'immagine in cui si vedono dei puntini che identificano il livello di danno per ogni singolo edificio. Ovviamente soprattutto nell'ambito di grosse emergenze si comincia a avere anche la problematica di come rispondere efficacemente, nel senso che il solo servizio Copernicus potrebbe non essere in grado di dare risposte nei tempi richiesti per la risposta all'emergenza e quindi ci sono anche altri meccanismi che entrano in gioco, altre organizzazioni, organizzazioni che intervengono a modalità più o meno volontaria, organismi delle Nazioni Unite che operano nello stesso campo e viene anche necessario per in quest'ambito avere delle sorte di armonizzazione dei prodotti. Quindi da qualche anno è attivo un gruppo di lavoro internazionale per la cartografia di emergenza basata su dati satellitari che ha uno dei principali scopi, quello di definire delle linee guida affinché i prodotti generati siano congruenti e per esempio definisce delle linee guida per categorizzare i danni agli edifici, quindi in funzione della risoluzione delle immagini e in funzione, definisce quattro gradi di danno in maniera tale che questa situazione, questa diciamo valutazione sia il più possibile uniforme indipendentemente da chi la compie. Come dicevo una delle principali problematiche e requisiti è legata alla tempistica, questi sono i requisiti di delivery, di consegna dei prodotti del servizio Copernicus EMS Rapid Mapping correnti, vuol dire che andiamo da alcuni prodotti che devono essere rilasciati addirittura a due ore dalla disponibilità dell'immagine tele rilevata e questo può voler dire anche la situazione che abbiamo visto prima, cioè decine di migliaia di edifici da valutare uno a uno con visual interpretation, quindi delle situazioni che oggettivamente sono molto difficili, degli obiettivi molto difficili da raggiungere. Quindi quali sono le, diciamo per evidenziare quali sono le maggiori criticità e le maggiori necessità da un punto di vista tecnologico per un servizio di questo tipo? sono l'accesso efficiente e strutture dati standard per tutti quelli che sono i dati di riferimento, quindi ci ritroviamo un'attivazione su una città del Mozambico, teoricamente noi dovremmo avere conoscenza di tutto quello che è presente in quell'area in maniera più completa possibile con una struttura dati che ci consenta di un'immediata interpretazione. Se dobbiamo consegnare un prodotto in due ore non possiamo neanche dedicare un'ora, neanche un'ora a identificare, a cercare dei dati e a capire in che formato sono, a capire la loro descrizione, quindi dobbiamo saperlo a priori oppure ci vuole qualcuno che faccia un lavoro di armonizzazione a priori. Quale potrebbe essere una soluzione? una soluzione a livello europeo, diciamo, oltre a quello che è l'inquadramento normativo che si rifà alla direttiva Inspire, possono essere iniziative tipo Open Health, Open Health è un'iniziativa nata da un progetto con finanziamenti europei finalizzato proprio a costituire delle basi comuni, armonizzate e coerenti a livello europeo. Fornisce già una serie di prodotti che sono elencati lì a sinistra, tra cui un paio che sono molto rilevanti per l'attività di emergency mapping, quindi edifici e rete di trasporto. Definisce anche delle linee guida per l'implementazione di processi di armonizzazione. Processi di armonizzazione che possono ovviamente riguardare una regola di codifica diversa da parte di enti diversi, qui abbiamo un esempio di come la rete stradale è codificata in maniera differente nativamente in Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria e un approccio adottato da questa iniziativa Open Health per avere una classificazione armonizzata, piuttosto che evidentemente delle vere e proprie operazioni per gestire la congruenza ai confini tra informazioni generate da enti differenti. Quindi, una volta consolidato il problema legato a un accesso efficiente e efficace al dato di riferimento, c'è la questione dell'estrazione automatica. Quindi ritorniamo sul discorso come faccio a identificare i danni a decine di migliaia di edifici in massimo 10 ore. Una possibilità evidentemente, visti gli sviluppi tecnologici correnti, di andare verso le direzioni di artificial intelligence che poi vengono declinati in machine learning, deep learning. Esistono già molte esperienze a riguardo, c'è una pubblicazione molto interessante citata nella slide in cui si fa già un assessment di quali sono le applicazioni più importanti sviluppate in questo ambito. Quello che a noi servirebbe molto concretamente è un'applicazione che si basi essenzialmente su immagini satellitari, possibilmente open e su dati, informazioni sugli eventi specificatamente open e che siano centralizzati sull'identificazione dei danni. Questo secondo me è un grosso challenge, è una questione ancora aperta. Una questione aperta in questo senso è una grossa difficoltà è avere dei training data set adeguati, perché è vero che purtroppo di emergenze ce ne sono tante, ma probabilmente non così tante per costruire dei training data set efficienti se vogliamo identificare veramente un'informazione sui danni. C'è la possibilità di andare verso metodi unsupervised, potrebbe essere una soluzione, la criticità di questa soluzione è che poi le classi che definisco con metodi unsupervised sono difficilmente poi, c'è tutta la parte di aggiungere contenuto semantico a quelle informazioni, cioè le distribuisco in classi ma poi non so, non è facile, non è detto che quella classi individuata in maniera automatica sia coerente con l'informazione che voglia estrarre. Detto questo, in ambito di gestione delle emergenze ci sono già iniziative che adottano meccanismi di deep learning, un esempio è l'Hot Tasking Manager, HOT sta per Humanitarian OpenStreetMap Team e quindi è la componente di OpenStreetMap che interviene durante le emergenze e che ha un suo meccanismo per coordinare gli interventi dei volontari definendo delle aree di interesse e ripartendo l'area di interesse in maniera tale da ottimizzare le attività e stanno portando avanti i discorsi di artificial intelligence per o estrazione di edifici, di footprint ed edifici di riferimento ma anche per integrare questa informazione nel Tasking Manager per esempio richiedere agli utenti dei feedback, attivare dei feedback loop per migliorare poi tutto il processo e i risultati. Per finire un altro aspetto che è interessante per noi è la distribuzione dell'informazione così generata. Teniamo conto appunto che si interviene ovunque nel mondo, in situazioni in cui magari le infrastrutture sono state anche colpite dall'evento, dobbiamo trovare dei sistemi efficienti per la distribuzione delle informazioni. Da un punto di vista tecnologico alcune soluzioni potrebbero essere servizi web efficienti tipo Vector Tiles che ottimizzano la richiesta di trasferimento dati ma consentendo delle funzionalità, la lato client importanti. Per i dati raster un'opzione che viene in questo momento seguita anche a livello del servizio della commissione è il Cloud Optimize Geotif che di nuovo consentono lato raster questa volta un'ottimizzazione del dato trasferimento. In conclusione qual è il contributo di Acer in tutto questo meccanismo? Ci sono due punti in cui già è abbastanza consolidato cioè tutti la possibilità di costruire flussi di lavoro per il processamento del dato e strumenti avanzati di editing che rendono molto più, agevolano, essere molto speditivi nella fase di digitalizzazione esistono già. Altre funzioni per noi molto importanti sono la possibilità di avere già database multiutenti in cui possiamo parallelizzare il processo di fotointerpretazione, di identificazione dei danni e questo c'è già ed è molto importante. Quello che a noi consideriamo appunto degli strumenti su cui investire d'ora in poi sono appunto strumenti di machine learning, deep learning finalizzati all'identificazione di oggetti danneggiati dall'evento o comunque a supporto di quell'attività e abbiamo visto in questi giorni che diciamo Margist Notebook pur non integrando direttamente delle funzionalità ma consente di aprire il mondo a librerie e interfacce che fanno questo lavoro e per noi potrebbe essere molto interessante e appunto per riguardo alla distribuzione efficace Vector Tiles sono già supportate in alcune, diciamo, su diverse piattaforme Esri. Non sono certo sulla parte raster ma comunque quello che vogliamo identificare, verificare che ci siano strumenti a supporto anche per questa funzionalità. Con questo concluso. Grazie.